Perfetto, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar che abbiamo organizzato con l'obiettivo di illustrare le disposizioni relative all'estensione dell'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro. Un tema particolarmente caldo e importante in questi giorni. Come saprete, perché è un tema particolarmente discusso anche sui media, il decreto legge numero 127 del 21 settembre ultimo scorso ha esteso l'obbligo di Green Pass anche ai luoghi di lavoro nel settore privato. Le disposizioni di questo decreto legge vanno a inserirsi all'interno del decreto legge 52 dell'aprile scorso che è stato poi convertito in legge con alcune modifiche il 17 giugno con la legge numero 87. Il decreto legge in questione estende l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro private. è già entrato in vigore mercoledì 22 settembre scorso ma il termine ultimo entro cui il datore di lavoro deve organizzarsi parte da venerdì 15 ottobre. Da qui appunto la nostra idea di organizzare per le concerie associate questo momento di illustrazione e confronto sui contenuti del decreto dato appunto la delicatezza degli stessi. La mia sarà solo una breve introduzione per dirvi che appunto è un tema particolarmente delicato è un tema su cui Confindustria ha supportato da tempo il governo affinché appunto questo obbligo fosse esteso anche al settore privato una posizione che comunque ha fatto nascere alcuni dubbi anche alcune problematiche e criticità in merito all'implementazione di questa misura nelle aziende. Il dibattito nonostante comunque il termine sia tra pochi giorni è ancora in corso è ancora in corso perché appunto in queste settimane, in questi ultimi giorni alcune voci anche all'interno del perimetro Confindustriale sono levate per segnalare appunto criticità e soprattutto dubbi interpretativi. L'obiettivo di questo webinar è appunto di illustrarvi i contenuti di questo decreto, dare appunto delle indicazioni per l'implementazione vi sono, questo è un dato di fatto, delle parti su cui noi stessi abbiamo dei dubbi in termini di interpretazione delle disposizioni di legge però contiamo comunque anche attraverso un confronto e magari anche attraverso la valutazione di singole problematiche specifiche all'interno delle singole aziende possiamo comunque esservi di supporto. Una cosa importante alla luce anche del dibattito tutt'ora in corso non si esclude, anzi direi che è altamente probabile che le attuali disposizioni possano essere modificate o integrate nei giorni a venire e quindi ci riserviamo comunque la possibilità qualora vi siano appunto novità sul tema di informarvi in maniera tempestiva affinché tutto possa procedere nel migliore dei modi. Con me oggi c'è Silvia Pedrana e Mary Genovese del servizio sindacale dell'associazione insieme a Fabiana Orlandi del servizio ambiente accapitolati che si occupa nello specifico di molte tematiche inerenti alla sicurezza in conceria e il servizio legale dell'associazione nella persona dell'avvocato Giampiero Gimignani. Questo incontro virtuale è in forma di webinar, di conseguenza il microfono non è aperto per i partecipanti ma è possibile porre domande attraverso la funzione domande e risposte che vedete al centro della schermata di Zoom ma attraverso quella funzione lì potete fare domande ai relatori, risponderemo alle domande al termine della presentazione proprio perché magari alcune domande poi verranno risposte durante l'esposizione. Detto questo stiamo registrando il webinar in maniera tale che questo possa essere poi fruibile anche dopo questa presentazione lo metteremo sui nostri canali web e condivideremo poi al termine dello stesso anche le slide di presentazione insieme ad altra documentazione utile tipo la modulistica, un modello di modulistica che può essere utilizzata per esplitare alle disposizioni di legge. Penso di aver detto tutto in termini di introduzione, passo quindi la parola alla collega Silvia Pedana che condividerà con voi la presentazione e la illustrerà. Silvia a te. Ok grazie Luca e buongiorno a tutti. Inizio con il condividere la presentazione. Ok, si vede? Sì. Ok, perfetto. Allora io comincio con il fare una breve premessa in merito all'ultimo provvedimento che ha esteso il possesso del Green Pass anche al settore privato. Tra maggio e giugno la campagna vaccinale stava procedendo in maniera molto positiva ma c'erano ed erano forti i timori di una recrudescenza del virus e quindi la paura di ulteriori misure di contenimento. Si è quindi resa necessaria l'esigenza di misure ulteriori rispetto a quelle che erano finora adottate per contenere gli effetti di una variante che sembrava sempre molto più trasmissibile e è proprio in quest'ottica che il governo ha cominciato a ragionare sulle ulteriori misure aggiuntive a quelle previste. Diciamo che la sempre più marcata necessità di debellare gli effetti negativi legati alla diffusione del Covid, tenendo in considerazione che il presupposto fondamentale è la tutela della salute pubblica e della ripresa economica, ciò ha indotto il governo a introdurre l'obbligo di Green Pass e quindi l'organizzazione di un sistema di controllo efficace per lo svolgimento dell'attività lavorativa in sicurezza. Come anticipato già da Luca Boltri, l'introduzione dell'obbligo di Green Pass è stato appoggiato e accolto positivamente dalla Confindustria. Facendo un accenno a quelle che sono le fonti normative, ricordo che il decreto legge 127 del 21 settembre 2021 ha introdurre l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di verificare il regolare possesso delle certificazioni verdi per l'accesso ai luoghi di lavoro. L'obbligo sussiste dal 15 ottobre e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021, che attualmente è il termine fissato per la cessazione dello stato di emergenza. Per quanto riguarda i soggetti interessati, sono interessati tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato che sono tenuti a dimostrare documentalmente il possesso del Green Pass, esibendolo ovviamente su richiesta per poter accedere al luogo di lavoro e svolgere quindi l'attività lavorativa. Il mancato rispetto degli obblighi che sono introdotti dal decreto fanno scattare delle misure sanzionatorie sia in capo ai lavoratori che in capo ai datori di lavoro. Entro subito nel vivo di quelli che sono gli obblighi per i datori di lavoro che devono essere assolti obbligatoriamente entro il 15 ottobre. I datori di lavoro devono infatti definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche, quindi è necessario che tutti i datori di lavoro definiscano la specifica procedura aziendale nella quale vengono definite e dettagliate le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche, tenendo anche conto delle peculiarità aziendali e a quelle che sono le caratteristiche dell'organizzazione del lavoro. È necessario anche individuare i soggetti responsabili delegati al controllo e quindi anche all'accertamento delle violazioni e poi è necessario assolutamente fornire un'adeguata informativa appunto di quelle che sono le modalità, i dettagli, i criteri per lo svolgimento delle verifiche, dei controlli e di quelli che sono i soggetti delegati individuati dall'azienda per effettuare il controllo. Come anticipato, trasmetteremo al termine del seminario dei documenti operativi che sono stati predisposti e circolati, fatti circolare anche da Confindustria, che sono utili per supportare le imprese nell'organizzazione delle procedure di controllo. Ovviamente tutto quello che è previsto ed è presentato in questi modelli potrebbe essere poi modificato e ovviamente sarà nostra cura poi aggiornarvi qualora emergessero delle difficoltà significative o delle novità nell'interpretazione dell'attuale quadro regolatorio. Faccio anche una precisazione con riferimento alla definizione delle modalità operative che nel decreto legge non ci sono riferimenti ad obblighi di informazione, comunicazione, condivisione sindacale che erano previste ad esempio nell'adozione dei protocolli anticontagio. Sicuramente possono essere coinvolti, nulla vieta il coinvolgimento, però non vi è un esplicito obbligo di legge a prevedere il coinvolgimento sindacale. Se i miei colleghi hanno qualcosa da aggiungere, se ometto qualcosa di importante, mi raccomando interrompetemi e integrate con quello che è opportuno magari dire. Per quanto riguarda sempre gli obblighi per gli imprenditori, come ho accenato prima, il decreto stabilisce come devono essere effettuati i controlli e prevede che i controlli debbano essere prioritariamente, ove possibile, effettuati al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro e prevede anche la possibilità che le verifiche possano essere svolte a campione. Diciamo che prioritariamente è indicato effettuare i controlli al momento dell'accesso, questa modalità è sicuramente la più consigliata dal momento in cui il controllo al momento dell'accesso riduce la possibilità di ingresso di persone sprovviste di Green Pass che possono essere poi pericolose per la diffusione del coronavirus in azienda. È possibile comunque, perché la legge lo prevede, la possibilità di svolgere il controllo anche successivamente al momento dell'accesso ed è possibile anche la modalità di controllo a campione che sicuramente nelle aziende grandi può essere vista come una modalità semplificativa per gli adempimenti, però anche in questo caso proprio per il fine che c'è l'obiettivo dietro questo decreto legge, il controllo generalizzato è preferibile anche proprio per evitare che vi siano situazioni in cui magari il lavoratore si rechi in azienda senza essere in possesso di Green Pass e solo successivamente nel controllo venga rilevato questo tipo di situazione. Consiglia, scusami, aggiungo solo sulla slide precedente una, come dire, una precisazione relativamente ai controlli a campione. Come ha detto correttamente Silvia, la legge prevede questo tipo di controllo nell'ambito degli accessi per l'esecuzione dell'attività lavorativa, fate solo attenzione che in realtà, o meglio ancora fino che poi non ci saranno eventuali chiarimenti in merito, l'accesso invece alle mense è invece ancora riferito all'obbligo di controllo di tutti i soggetti presenti che è lo stesso obbligo che è stato previsto di fatto nei ristoranti. Quindi, mentre l'accesso al luogo di lavoro può essere il controllo in accesso, in ingresso, può essere fatto a campione, il controllo in ingresso alle mense deve essere fatto necessariamente su tutti i lavoratori che vi accedono. Scusa Silvia, era solo una presentazione per questo ambito specifico. Grazie, grazie che l'hai precisato. Seguo con quelli che sono gli obblighi già anticipati per gli imprenditori da assolversi entro il 15 di ottobre, il decreto stabilisce che i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi e quindi il datore di lavoro deve designare e delegare con un apposito atto scritto quelli che sono i soggetti incaricati per le verifiche, quindi nell'atto di nomina poi devono essere anche indicate tutte le necessarie istruzioni per l'esercizio dell'attività di verifica e come anche anticipato i lavoratori devono essere messi a conoscenza, quindi mediante apposita informativa di quelli che sono i soggetti incaricati per effettuare i controlli. Con riferimento alle modalità di verifica del Green Pass, preciso che e ricordo che la verifica deve essere fatta esclusivamente utilizzando l'app verifica C19 mediante la scansione del QR code che viene apposto sullo stesso. Le attività di verifica si devono limitare al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono assolutamente comportare la raccolta dei dati dell'interessato. Al momento del controllo attraverso l'app si potranno verificare tre tipi di situazione, quella della situazione con spunta verde che è la certificazione valida in Italia e in Europa, quella azzurra attesta la certificazione valida soltanto in Italia e la terza che è la rossa denota un'invalidità della certificazione. Inoltre si precisa che non è assolutamente possibile acquisire dal lavoratore neanche preventivamente e neanche successivamente la certificazione in corso di validità o qualsiasi tipo di dichiarazione in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa. Nell'ottica però dell'organizzazione generale dell'attività di impresa anche per favorire l'organizzazione e la pianificazione aziendale è comunque consentito al datore di lavoro richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente anche magari con riferimento a uno specifico periodo di interesse se sarà o non sarà in possesso della certificazione. La comunicazione preventiva comunque non esonera il datore di lavoro dal controllare i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro e non pregiudica il lavoratore che l'ha effettuata dal presentare comunque in qualsiasi momento la certificazione necessaria per accedere sul luogo di lavoro. Passo ora a quelli che sono i soggetti destinatari e i soggetti che sono obbligati ai sensi del decreto legge per accedere al luogo di lavoro e per svolgere quindi l'attività lavorativa ad avere ed esibire il Green Pass. La norma quindi riguarda tutti i lavoratori del settore privato e tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro offerenti al settore privato anche sulla base di contratti esterni quindi anche i lavoratori autonomi e collaboratori non dipendenti. Quindi diciamo che è un obbligo generalizzato, un modo che è molto ampia la platea e l'ambito di destinazione del decreto legge quindi il testo normativo diciamo che è formulato in modo tale da assicurare la più ampia estensione dell'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass. Quindi oltre alla generalità dei dipendenti che sono assunti direttamente dall'impresa, dai collaboratori autonomi sono obbligati ad esibire il Green Pass, tutti i lavoratori somministrati, lavoratori distaccati, consulenti che si recano in azienda, il consulente del lavoro piuttosto che il commercialista, lo stagista, tutti coloro che per tutti i vari motivi devono accedere ovviamente per motivi di lavoro e in azienda. Anche faccio un accenno in questo caso al lavoratore in smart working perché anche in una fac il governo è intervenuto sulla necessità o meno di dover possedere il Green Pass in smart working e il governo è intervenuto dicendo che non è necessario il Green Pass per il lavoratore smart working ma comunque è precisa che lo smart working non deve essere utilizzato allo scopo di eludere il Green Pass. Ci sono dei soggetti che sono esentati dal presentare il Green Pass, quindi non saranno tenuti a esibire il Green Pass ed essere in possesso di certificazione verde, solo i soggetti che sulla base di un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri che vengono stabiliti da una circolare del Ministero della Salute presentano questa certificazione che deve contenere ovviamente i dati identificativi del soggetto, la dicitura che il soggetto è esente dalla vaccinazione, la data di fine validità della certificazione, i dati relativi al servizio vaccinale delle aziende identi dal servizio sanitario regionale, il timbro e la firma del medico certificatore e il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore. Questo è quanto è stato poi stabilito da una circolare del Ministero della Salute che mette in evidenza proprio i criteri per la certificazione. Passo poi a quelle che sono le conseguenze per il lavoratore che non esibisce il Green Pass. Innanzitutto va fatta una differenziazione sulla base della dimensione aziendale, qualora il lavoratore non risulti in possesso di Green Pass e magari lo comunica prima o comunque al momento della richiesta non presenta una certificazione in corso di validità le conseguenze si differenziano quindi a seconda che l'azienda abbia dai 15 dipendenti in su e a seconda che le aziende abbiano meno di 15 dipendenti. Nel caso delle aziende da 15 dipendenti in su la mancata esibizione da parte del lavoratore o la mancata validità di un Green Pass al momento del controllo, qui l'esempio è il controllo all'accesso, il lavoratore viene considerato assente e ingiustificato con sospensione della retribuzione e comunque qualsiasi altro compenso è sospettante e non ha però delle conseguenze sul piano disciplinare. Nelle aziende invece che occupano fino a 14 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata è prevista la possibilità per il datore di lavoro di sostituire il lavoratore con un altro dipendente quindi con un'assunzione a tempo determinato e sospendere il lavoratore senza Green Pass per una durata che corrisponde a quella del contratto di lavoro del sostituto per un periodo non superiore a 10 giorni che può essere rinnovato di altri 10 giorni per una sola volta e questo fino al 31 dicembre, quindi al momento non oltre il 31 dicembre. Per quanto riguarda il momento in cui avviene l'effettiva verifica quindi se il lavoratore dichiara in via preventiva di non essere in possesso del Green Pass o comunque viene bloccato in sede di controllo all'ingresso del luogo di lavoro perché non è in possesso del Green Pass le conseguenze per il lavoratore sono che viene trattato come assento ingiustificato quindi non vi è alcun tipo di retribuzione e non vi sono conseguenze disciplinari. Invece nel caso in cui il lavoratore che pur essendo privo di Green Pass acceda comunque al luogo di lavoro e questo magari è il caso in cui il controllo viene fatto non all'ingresso ma magari successivamente all'ingresso oppure nel caso di controllo a campione le conseguenze per il lavoratore sono l'allontanamento dal luogo di lavoro il trattamento del lavoratore ovviamente come assente ingiustificato e scatta la sanzione da parte del prefetto di una sanzione amministrativa pecuniaria ad importo variabile tra i 600 e i 1500 euro e inoltre in questo caso può essere passibile di sanzioni disciplinari. Anche per il datore di lavoro come anticipato nelle premesse sono previste delle sanzioni le sanzioni che scattano nel caso in cui il datore di lavoro non metta in atto tutti gli obblighi che entro il 15 di ottobre sono da attuare ossia l'adozione delle misure organizzative, la nomina del delegato al controllo e poi successivamente la mancata verifica e il controllo da parte dei datori di lavoro del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori, in questo caso la sanzione amministrativa varia dai 400 ai 1000 euro e in caso di reiterate violazioni la sanzione può essere anche raddoppiata. Con riferimento a quelli che sono i soggetti incaricati dell'accertamento diciamo che questi soggetti nominati con atto formale da parte del datore di lavoro sono anche i soggetti che dovranno dopo averle accertate dovranno contestare e trasmettere al prefetto gli atti relativi alla violazione e le sanzioni verranno poi rogate dal prefetto. Sul punto si attendono comunque degli ulteriori chiarimenti anche perché si attende che ci sia qualche chiarimento e orientamento da parte del Ministero dell'Interno, soprattutto anche per quanto riguarda la procedura di comunicazione delle violazioni al prefetto. Io avrei concluso la mia presentazione, se le colleghe hanno qualcosa da aggiungere, qualcosa che magari è importante da evidenziare, si sentono libere di farlo, se dovessero esserci ulteriori richieste, informazioni ricordo che è possibile scriverci a sindacale chiocciolaunic.it e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Silvia. Abbiamo una domanda per il momento e la faccio, poi la condivido. Per quanto riguarda i terzisti, esempio i trasportatori che consegnano e prelevano merci in azienda e che quindi accedono sicuramente ai piazzali di pertinenza, c'è comunque l'obbligo di verificare il Green Pass ai autisti. Magari Mari, visto che era una cosa su cui accennavamo qualche tempo fa. Assolutamente. Allora, il legislatore non dà una definizione di luogo di lavoro ben precisa, però riteniamo che sia prudente il controllo anche lì dove un luogo di lavoro non sia esattamente delimitabile, quindi si intende ad includere nel luogo di lavoro anche le pertinenze, quindi tutti i locali interni, ma anche esterni, il cortile, qualsiasi luogo appartenente all'azienda cui abbiano accesso gli esterni. Per cui direi che la risposta è sì, affermativa. Ecco, se posso aggiungere un dettaglio, non tanto sull'opportunità o meno del controllo, ma quanto in aggiunta all'informativa da condividere con i propri lavoratori, anche una forte opportunità di condividere l'informativa relativa all'obbligo del Green Pass anche con tutti i fornitori, siano essi di merci, di servizi o di altro genere. Questo perché nel caso sfortunato e malaugurato in cui un, supponiamo un trasportatore che si presenta per consegnare la merce che magari scende dal mezzo per aprire il camion o per scaricare, nel momento in cui viene trovato sprovvisto di Green Pass, di fatto, l'azienda ha l'obbligo di rimandare lui e il camion al di fuori dei cancelli. Per cui, con una comunicazione chiara e preventiva fatta anche ai fornitori, dove si chiarisce che l'obbligo del Green Pass è anche, come dire, funzionale allo svolgimento del proprio servizio, poi mette anche l'azienda in una posizione di vantaggio, pensiamo ad esempio anche all'ingresso di un lavoratore interinale che di fatto poi è sprovvisto del titolo idoneo e quindi dell'idoneità completa che in questo momento storico è data anche dal possesso del Green Pass di procedere poi con la propria attività lavorativa. È importante perché così, come dire, l'azienda può poi dire al fornitore di servizi, di manodopera e quant'altro che, come dire, in quel caso il fornitore non è in grado di poter garantire il servizio, ma poi i danni sono in capo al fornitore e non è l'azienda che poi deve gestire il servizio. Questo serve anche un po', come dire, come cautela preventiva per evitare poi disguidi all'arrivo del trasportatore. Tra l'altro poi nella documentazione che vi verrà condivisa da Silvia alla fine di questo webinar c'è anche una facsimile di comunicazione proprio per i fornitori. Sulla questione del trasporto faccio anche un'aggiunta importante. Fate particolare attenzione e la comunicazione quindi è doppiamente importante nel caso soprattutto di trasportatori che provengono dall'estero perché non è detto che negli altri paesi di provenienza, in alcuni paesi europei, ma non in tutti, ad esempio, ci sia l'obbligo del Green Pass. Per cui potrebbe anche essere che vi si presenta un autista che neanche ha idea del fatto che per accedere al luogo di lavoro c'è l'obbligatorietà di questo documento. Anche in questo caso il consiglio è quello di comunicare poi di fatto all'azienda di autotrasporto, magari è l'azienda la cui ci approvvigioniamo ad esempio per le pelli, di quelle che sono le regole vigenti in Italia e di quelle che sono le misure che il lavoratore può, il trasportatore può adottare una volta che entra in Italia. Oltre al possesso del Green Pass che viene rilasciato in molti paesi europei c'è anche la possibilità poi per lo stesso trasportatore ad esempio di poter effettuare un tampone molecolare e di avere l'esito entro un breve tempo e quindi in questo caso di avere un Green Pass temporaneo che può esibire all'accesso in azienda. Per cui ecco questo solo per chiudere un po' il quadro anche sull'importanza dello scambio di informazioni anche con i propri fornitori. Sì, a questo proposito faccio io giusto una minima chiusura. Nel caso in cui il trasportatore appunto venga dall'estero, appunto magari ai paesi dell'est così, leggevo oggi, mi ricordo dove, di verificare bene che tipo, che nel caso in cui sia vaccinata, chiedete ma sei vaccinato? Sì, con che tipo di vaccino? Perché ovviamente come prima veniva accennato non tutti i vaccini sul mercato a livello globale sono consentiti, sono accettati dalle autorità italiane. Abbiamo altre due domande, parto con la prima. Per quanto concerne il caso di lavoratore che si presentasse all'accesso senza Green Pass e ricevesse dall'accertatore il divieto all'accesso e questo lavoratore insistesse per accedere o forzasse l'accesso, il datore di lavoro può o deve allertare le forze dell'ordine o ci si limita alla segnalazione al prefetto? Allora, la questione è molto delicata nel senso che sicuramente il datore di lavoro quello che può fare è applicargli una sanzione disciplinare in quanto il fatto costituisce, è considerato grave, molto grave e il legislatore non esclude neanche la possibilità che possa seguire un eventuale licenziamento. Sulla segnalazione inviata al prefetto, effettivamente il decreto ne fa menzione ma ci riserviamo di dare una risposta perché attendiamo dei chiarimenti in merito in quanto quello che dice il legislatore è che il datore di lavoro può applicare una sanzione amministrativa e segnalare al prefetto quanto accaduto però nulla è in merito, non abbiamo approfondimenti e nulla da suggerire data la delicatezza della situazione. Aggiungo solo una nota a margine a quello che diceva Mari più che altro di fatto il legislatore ha posto la priorità della tutela della salute di tutti i lavoratori in questo momento rispetto poi ad altre questioni per cui il datore di lavoro comunque è tenuto e obbligato a non far accedere questo lavoratore nel momento in cui prende atto dell'assenza del titolo abilitativo come in questo caso del Green Pass del lavoratore. Sulla chiamata la forza dell'ordine ovviamente qua dipende anche dal tenore e dallo sviluppo della situazione. Qua si tratta di consiglio ma è un consiglio generale di impedire l'accesso senza far presente la questione e senza poi fare in modo che gli animi si possano scaldare al punto da dover ricorrere all'assenza dell'ordine. Cioè è un principio di buonsenso più che… Ci si augura che una situazione del genere non avvenga. Dunque non so se posso intervenire. Questo è uno dei punti più delicati secondo me di questa normativa e spero che il governo faccia chiarezza su questo punto perché qui ci sono dei problemi particolari. Il datore di lavoro ha l'obbligo nel momento in cui un lavoratore viene trovato a non avere il Green Pass a meno da come si legge la norma, da come è interpretata, ha l'obbligo non solo di aprire un procedimento disciplinare nel confronto del lavoratore e di allontanarlo, dopodiché se questo non se ne vuole andare si potrebbe concretarsi la fattispecie della violenza privata, quindi chiamare le forze dell'ordine eccetera eccetera. Ha anche l'obbligo di trasmettere gli atti al prefetto perché poi il prefetto possa erogare le sanzioni. In questo caso il datore di lavoro assume un compito che normalmente è delle forze dell'ordine che è quello non solo di accertare l'infrazione ma anche di contestarla come avviene normalmente nelle sanzioni amministrative e quindi in un certo senso funge da pubblico ufficiale. Se non lo fa mi verrebbe da pensare, ma qui sto andando a braccio, che può incorrere in reati propri dei pubblici ufficiali, cioè omissioni di dati d'ufficio eccetera. Quindi è una situazione delicatissima e secondo me fatta male, perdonatemi, perché qui poi ci sono dall'altra parte però attenzione i diritti dei lavoratori, che primo fra tutti il diritto al lavoro che viene privato, quindi il lavoratore sta esercitando un suo diritto costituzionale e quindi è molto delicato adottare provvedimenti transciante, molto preoccupante perché poi mettiamo che il lavoratore per qualche stanna ragione avesse poi effettivamente diritto ad entrare e il datore involontariamente denuncia tutto al prefetto, magari chiama le forze dell'ordine eccetera eccetera, poi non vorrei che ci fossero delle conseguenze enormi sul piano della responsabilità in capo al datore. Quello che voglio dire è che con questa norma il legislatore sembra aver scaricato delle responsabilità sul datore che forse sono eccessive. Mi auguro che riveda questa parte. Ad oggi però quello che è stato detto lo confermo, la legge dice che è la persona, anzi neanche il datore, la persona incaricata dal datore di lavoro di fare i controlli, le verifiche della presenza del Green Pass a dover impedire al lavoratore di entrare ovviamente nei limiti della legalità e poi dover, ribadisco, dover denunciare, segnalare il fatto al prefetto. Poi le modalità di segnalazione non so neanche come si facciano perché normalmente le forze dell'ordine le dicono un verbale che mandano alla prefettura. Qua cosa fanno un verbale? Non lo so. Comunque questa domanda che ci avete fatto è una domanda che non ha una risposta sicura, bisogna stare molto attenti, almeno finché non ci siano chiarimenti, a mio avviso non tenere atteggiamenti eccessivamente duri, quindi fare tutto quello che si deve fare a livello formale ma non incorrere in azioni a sua volta violente. Sì, questo è stato uno dei punti anche nei giorni scorsi di, chiamiamo, maggior dibattito e maggior confronto perché, come giustamente diceva Giampiero, l'Avvocato Gimignani, ora ora è una fattispecie anche da un punto di vista di diritto sicuramente molto delicata, abbastanza bizzarra anche, però al momento appunto la norma è questa e è uno dei temi che risulta anche maggiormente, tra i temi maggiormente critici portati avanti dalle imprese e speriamo che nei prossimi giorni il legislatore possa dare chiarezza perché sicuramente il rischio è di situazioni abbastanza antipatiche. Un'altra domanda, per quanto concerne la validità del tampone, se il lavoratore accede con Green Pass valido e durante l'attività lavorativa la validità decade, resta in capo al lavoratore darne evidenza e se ne dà evidenza si è tenuti ad allontanarlo? Chi vuol rispondere? Allora, diciamo che il datore di lavoro ha fatto il suo controllo in ingresso, per cui per quanto riguarda i tre obblighi in capo al datore di lavoro che sono quelli elencati da Silvia prima, ovvero dell'adozione delle procedure, della nomina del soggetto preposto e dei controlli, di fatto il datore del lavoro è, come dire, da un punto di vista delle eventuali sanzioni a posto. Diciamo che solitamente nel momento in cui viene rilasciato un Green Pass a seguito di tampone molecolare è indicato sul certificato che viene rilasciato al lavoratore e che il datore di lavoro non può consultare l'ora di, definiamola, scadenza. Nel momento in cui, quindi, o il lavoratore, però in questo caso non c'è un'indicazione, come dire, chiara, il datore di lavoro non controlla, fa un controllo in ingresso soprattutto a tappeto e generalizzato anche durante l'attività lavorativa. Non è tenuto a farlo e il lavoratore non credo che vada a dire, guarda che il turno mi finisce alle sei, alle cinque mi scade il tampone. Anche qui, come dire, per quanto il caso potrebbe essere, come dire, non escludibile, è abbastanza improbabile che si palesi l'invalidità di un tampone a una certa ora. Vero è che nel caso in cui, supponiamo, entri un controllo esterno, quindi una forza dell'ordine, che si fa un controllo e effettua il controllo nell'ora in cui il green pass non era valido, a questo punto comunque il datore di lavoro è esentato perché i controlli li ha fatti. Il lavoratore era in possesso di un'informazione che non ha comunicato che a una certa ora sarebbe, come dire, si sarebbe invalidato il green pass, a quel punto potrebbe subentrare l'accezione che diceva Silvia, cioè esso al luogo di lavoro in un momento in cui il green pass non era valido, al più chiede un permesso di essere prima. Questa sarebbe la soluzione, come dire, più proceduralmente da suggerire, magari nell'ambito dell'informazione che il datore di lavoro può dare. Nel caso in cui un green pass, quindi nel termine in inglese, scada durante la giornata lavorativa, si consiglia al lavoratore di chiedere un permesso dal momento in cui il green pass non è più valido. Però non c'è una regola o una procedura stabilita. Anche qui al momento, come diceva anche l'Avvocato Gemignani, siamo un po' nell'ambito dell'appliciamo il buon senso. Sì, il problema immagino è che il buon senso poi lo devono applicare anche coloro che eventualmente fanno controlli. Questo credo che sia il timore principale delle aziende su questo fattispecie. Quanto riguarda la responsabilità dell'azienda comunque è esplicitamente scusa. Esatto, anche perché se l'azienda ha effettuato il controllo al momento dell'accesso e in quel momento il controllo dava un esito positivo e magari nel corso della giornata il tampone scade e non è più valido, quindi il green pass non è più valido, sicuramente non si pone un problema in capo all'azienda. Eventualmente, una volta identificato la non validità del green pass, il lavoratore deve essere allontanato in ogni caso con tanto di... pensione disciplinare eccetera. Esatto, anche perché il lavoratore ne è pienamente consapevole che ha avuto accesso ai luoghi di lavoro, quindi è una responsabilità del lavoratore che è venuto meno al suo obbligo comunque di presentarsi con una certificazione valida. Sì, mi viene anche da dire che in questo a fatti specie specifica il lavoratore probabilmente è pienamente consapevole se nel corso della giornata il tampone, cioè il green pass scade di efficacia oppure no, quindi comunque c'è una responsabilità sicuramente in capo a lui. In quel senso suggerirebbe appunto di, se tu lo sai, organizzati, chiedi un'ora di permesso di ferie eccetera, in modo tale da, ma proprio per, come dire, la tutela anche del lavoratore e a sua maggior garanzia di allontanarsi dal luogo di lavoro nel momento in cui potrebbero essere poi soggetto anche a pesanti sanzioni. Esatto, tra l'altro con riferimento alla situazione in cui viene trovato un lavoratore strovvisto di green pass e i controlli vengono effettuati a campione. è una fac del ministero, comunque specifica che non vi sono alcun tipo di responsabilità in capo all'azienda se i controlli sono stati effettuati nel rispetto del modello organizzativo che l'azienda aveva previsto. quindi se l'azienda ha assolto i suoi obblighi è tutto in capo poi al lavoratore, qualora dovesse emergere la situazione in cui il lavoratore è sprovvisto di green pass. Abbiamo altre tre domande, allora alcune sono particolari e ribadisco quindi magari nel caso in cui, vista appunto l'incertezza che abbiamo sottolineato in alcuni passaggi di questa norma, ribadisco che nel caso in cui alcune delle domande non trovassero una risposta esauriente oggi ci riserviamo il fatto di segnarci la domanda e il nome di chi l'ha fatta e di rispondere magari nei prossimi giorni dopo un approfondimento specifico che possiamo fare sia a livello confindustriale che anche internamente con qualche consulente. Allora vado avanti con le altre domande. Allora durante la verifica del green pass da parte del delegato è possibile o obbligatorio richiedere un documento di identità nei casi limite dove il delegato visualizza magari un nome maschile dall'app e di fronte si trova una donna? Allora il controllo dell'identità è un passaggio previsto, è consentito dal Ministero, ora non vorrei entrare troppo in questioni di genere che sono un po' delicate sul periodo però è ovvio che nel momento in cui ha nota delle difformità e quantomeno su un documento di identità un volto e un nome ci sono se il nome e il volto non coincidono quantomeno sul nome uno potrebbe avere dei dubbi ma se il volto non coincide con quello che hai davanti cioè credo che poi per carità se gli assomiglia ha cambiato pettinatura perché ha deciso di cambiare genere però Fabiana non viene fuori la foto? No sul documento di identità sì Sul documento sì però nel senso qui si tratta di verificare se coincide il nome che viene fuori dalla lettura con l'app con il nome che c'è sulla carta di identità Appunto il controllo del documento serve a verificare che il nome che c'è sul documento sia effettivamente il cui documento tu verifici Ah ok tu dici nel caso in cui la foto sul documento beh però lì credo che insomma sconfiniamo anche in insomma mostrare documenti palesemente falsi credo che sia un altro ambito e credo che spero che non si arrivi No però voglio dire che il documento è possibile verificarlo per accertarsi che il nome che compare per la titolarità del Green Pass coincida con il documento esibito dal soggetto controllato Certo Altra domanda allora nel caso in cui l'azienda decide di effettuare i controlli interni a campione quale può essere una percentuale validante dei lavoratori controllati? Il 50%? Ma adesso prima di passare la parola alle colleghe credo che sottolineando quello che è stato quello che è il nostro invito ma che è l'invito anche di Confindustria che è quello di possibilmente evitare i controlli a campione possibilmente quindi verificare il possesso del Green Pass a tutti coloro che entrano in un'azienda quindi evitare il campione nel caso in cui lo si voglia fare a campione credo che non sia così semplice riuscire a dire qual è una percentuale che permetta all'azienda di poter dire io i controlli li ho fatti e poi una persona invece il Green Pass non ce l'aveva credo che sia una risposta un po' delicata cosa ne pensate voi? Non c'è una percentuale di fatto che può essere considerata idonea piuttosto che no diciamo che quello che è importante nel momento in cui si va a definire la procedura di controllo e se viene stabilita come procedura di controllo una procedura di controllo a campione il criterio per la selezione del campione deve essere buono cioè ad esempio io posso dire io posso anche avere mille lavoratori non riesco perché non ho un sistema tale da reggermi mille controlli giornalieri posso opzionare anche di fare un quinto dei lavoratori e poi nell'arco della settimana il criterio fa sì che io li vado a verificare tutti esatto l'importante è che il criterio sia chiaro e ragionevole credo che sia il suggerimento migliore il fatto di avere tra virgolette un campione magari appunto un campione e non il totale dei lavoratori controllati ma che questo campione magari nel giro di qualche giorno permetta di avere una verifica di più o meno tutti quelli che entri in un'azienda sicuramente potrebbe essere un po' più garantista ecco del fatto di essere conformi alla disposizione legislativa altre due domande a seguito di prima dose di vaccino il green pass viene messo subito bisogna sempre attendere i 15 giorni come è stato fino ad oggi questa è una bella domanda voi sapete se ad oggi basta la prima dose di vaccino per avere il green pass? allora credo di sì sicuramente solo però penso che sia quello blu quindi green pass valido solo in Italia perché per viaggiare al di fuori dall'Italia è comunque necessaria la doppia dose di vaccino da quello che sapevo io era appunto che la doppia dose servisse fondamentalmente solo per i viaggi esatto al di fuori confini nazionali comunque all'interno dell'Europa all'interno dei paesi che riconoscono i nostri vaccini e il green pass quindi immagino che possa bastare effettivamente solo la prima dose sì viene rilasciato in tempi strettissimi a validità fino alla seconda dose addirittura entro le 48 ore successive alla somministrazione perfetto l'ultima domanda che vedo per il momento salve ma non sapendo la scadenza del green pass devo procedere al controllo tutte le mattine? sì anche perché comunque anche se qualora cosa che non è possibile fare se si registrasse la scadenza il tutto è passibile di modifica anche perché potrebbe essere che un lavoratore in possesso di green pass potrebbe essere contrarre il virus e questo automaticamente fa venire meno la validità quindi sulla base della procedura che viene che si dà all'azienda quindi sulle modalità di controllo se avvengono tutti i giorni all'ingresso piuttosto che a campione piuttosto però sicuramente il controllo deve essere effettuato sì diciamo che quanto più è esteso il controllo tanto più riesco a dimostrare di aver perseguito il mio obiettivo esatto garantire un luogo di lavoro sicuro esatto e l'obiettivo che è alla base della normativa che è finalizzata proprio alla tutela della salute e della ripresa del mantenimento dell'attività lavorativa e tanto più bassi sono i rischi da parte del datore di lavoro in caso di controlli di essere sanzionato mi ricollego a questa domanda per sottolineare un punto correggetemi se sbaglio perché comunque tutto la modalità e il sistema attraverso cui l'azienda verifica il processo di green pass deve essere implementato in maniera tale che però non vi sia tra virgolette la condivisione dell'informazione sul tipo di green pass che il singolo lavoratore ha in atto cioè se è un green pass da vaccinazione o da tampone proprio perché c'è la necessità in primo luogo di tutelare in questo caso sì la privacy del liberatore del lavoratore su quale delle due modalità abbia scelto di conseguenza non posso sapere la scadenza non posso credo che neanche chiedere la scadenza proprio per questo motivo posso solo controllare la validità e l'autenticità del certificato in quel momento senza acquisire alcun tipo di altro dato ecco tenendo conto che anche la stessa modalità identificata dal decreto per il controllo cioè che è l'uso obbligatorio dell'app cioè non ci sono controlli visivi del green pass cartaceo piuttosto che il controllo deve essere obbligatoriamente fatto tramite l'utilizzo dell'app che deve scansionare il QR code e che deve dare l'esito che Silvia aveva fatto vedere prima spunta verde, spunta azzurra, spunta rossa al più l'unica eccezione all'utilizzo dell'app è nel caso di soggetti esentati dall'obbligo di vaccinazione con la presentazione dei certificati con quei requisiti che vi sono stati elencati prima ma la stessa app l'unica informazione che vi dà in uscita è la spunta esatto altra domanda è possibile creare un registro per dare evidenza dei controlli ad esempio spuntando l'elenco presenze con il controllo giornaliero? sì nel senso che allora può essere registrata data evidenza del controllo fatto l'unica informazione che può essere però registrata è l'esito della spunta cioè ok spunta verde, spunta azzurra eccetera è l'unica informazione che può essere registrato tra l'altro nella documentazione che trasmetteremo e circoleremo ci sono anche dei documenti utili per la modalità di effettazione del controllo quindi con nomi e cognomi l'esito del controllo sia stato positivo o negativo e poi gli eventuali provvedimenti che possono o devono essere presi in caso di certificato negativo il registro è proprio lo strumento che ci permette di dimostrare in caso di eventuali controlli che abbiamo effettuato il controllo esatto sì credo forse che sia proprio un suggerimento da dare esatto assolutamente di crearlo bene allora al momento non mi sembra ci siano altre domande invito eventualmente coloro che hanno ancora qualche richiesta di chiarimento magari a farlo in questo momento oppure ricordo come potete vedere dallo schermo l'email del servizio sindacale nel caso mandateci le vostre domande specifiche e cercheremo di rispondervi il prima possibile al netto ovviamente di quelli che purtroppo sono un po' i dubbi interpretativi che abbiamo evidenziato finora attendiamo quelle che saranno quasi sicuramente le modifiche che verranno fatte nei prossimi giorni ricordiamo il fatto che appunto si tratta di un decreto legge che quindi comunque seguirà un iter di approvazione in Parlamento nelle prossime settimane e già è stato anticipato che durante questo iter probabilmente delle modifiche verranno operate quando verranno fatte sarà nostra premura comunicarvele il prima possibile detto questo se non ci sono altre domande se non ci sono da parte dei relatori altri commenti o altre indicazioni o suggerimenti che vogliamo dare alle aziende io segnalo solo che le slide comunque le verranno trasmesse unitamente alla documentazione di cui parlavamo adesso appena possibile le trasmetteremo aggiungo solo in coda ma giusto per contestualizzare un po' i documenti che poi verranno fatti circolare nei documenti poi i documenti sono anche comprensivi di un'informativa ai sensi della privacy proprio su questo tema specifico del Green Pass per cui poi vi troverete anche questa parte a supporto già fatta da poter poi far circolare ai collaboratori ho una domanda in merito a quello che abbiamo appena risposto sul registro un partecipante dice non sono convinto sull'uso del registro registrare anche il solo possesso del Green Pass è un dato sanitario che deve essere tutelato ai fini della privacy allora su questo aspetto diciamo che poi per quanto riguarda la privacy più o meno la situazione è abbastanza chiara nel senso che anche la modalità che è stata identificata per la verifica del Green Pass non va a come dire a tangere o a toccare informazioni di carattere sanitario perché in realtà l'app non mi permette non mi consente di conoscere qual è la ragione per cui io sono in possesso di Green Pass cioè dalla spunta e dall'utilizzo dell'app io non posso sapere se il soggetto ha il Green Pass perché ha contratto il Covid, perché si è vaccinato o perché semplicemente si è fatto un tampone molecolare la mattina prima e quindi in realtà con il controllo dell'app e con la registrazione della sola spunta io non vengo a conoscenza di e non registro alcun dato sanitario cioè su questo poi anche i legali che hanno seguito in particolare questa questione della privacy sono stati tutti abbastanza convinti e sereni sì, adesso purtroppo il nostro avvocato ha dovuto lasciare il webinar perché c'è un'altra call in corso se no avrebbe potuto lui intervenire a riguardo ma sono anch'io abbastanza certo di quello che ha appena detto Fabiana anche perché se no sarebbe estremamente complicato se non quasi impossibile per un'azienda riuscire a organizzare un sistema di verifica efficace ai fini poi appunto dell'ottemperanza alla legge quindi sinceramente credo che siamo abbastanza sicuri da questo punto di vista non solo, era un dato sanitario sensibile e su quello c'era stata parecchia discussione nei mesi scorsi il fatto di chiedere o meno a un lavoratore se si era vaccinato oppure no è quello che diciamo prima ma con l'app si va di fatto a bypassare la questione perché il lavoratore potrebbe anche non essere stato vaccinato ma essere comunque in possesso di Green Pass perché si è fatto un tampone e se lo fa un giorno sì un giorno no quindi lui tutti i giorni in cui entra al lavoro è coperto l'app non dà nessun tipo di indicazione su quella che è la motivazione che è la base del possesso del Green Pass come giustamente sottolinea anche il nostro collega responsabile dell'ufficio toscano di Unic Francesco Pepe in chat l'app non mostra la data di scadenza del Green Pass anche quella evidentemente sarebbe un'informazione lesiva della privacy e quindi siamo abbastanza certi di questo c'è un altro partecipante che anche lei non è convinta sul registro con la verifica controllo senza registrare con il registro invece detengo il dato il dato che si detiene è il nome e cognome e l'esito della spunta esito che è positivo o negativo non possesso di Green Pass o meno o qualsiasi altro tipo di esito al controllo allora visto che comunque abbiamo visto che c'è un po' di sono un po' di dubbi su questo ultimo punto noi facciamo così facciamo una verifica un'ulteriore verifica specifica con i legali per essere sicuri al 100% anche se abbiamo detto che purtroppo per come è scritto la norma una sicurezza al 100% su questi passaggi non c'è perché non viene esplicitato tutto nei dettagli comunque facciamo una verifica e nella comunicazione che manderemo a questo punto credo domani mattina Silvia magari questo punto lo sottolineiamo va bene se non ci sono altre domande anche qui invito ancora per qualche secondo i partecipanti nel caso in cui abbiano dubbi e li volessero condividere nella sezione domande e risposta a farlo possibilmente adesso se no ribadisco appunto che ci si può sentire in via riservata attraverso la nostra mail o anche chiamando qui comunque negli uffici unici di Milano e cercheremo di darvi assistenza a riguardo non vedo ulteriori domande quindi anche qui a questo punto in assenza di ulteriori commenti siamo rimasti sostanzialmente nell'ora di durata del webinar che ci eravamo prefissati ringrazio tutti i relatori ringrazio i partecipanti e come detto vi manderemo le slide e la documentazione a supporto nella giornata di domani assieme a quest'ultima verifica specifica sul liceità o meno di tenere un registro di controllo degli ingressi grazie a tutti e arrivederci grazie, arrivederci